Ma cos'è? Come un fulmine a ciel sereno in una coppia affiatata e benestante arriva la perdita del lavoro del marito. Non ci vado più in ufficienza. La precarietà, l'accontentarsi del poco, lo scoraggiamento e la voglia di ricominciare nel film Giorni e nuvole con Margherita Vui e Antonio Albanese martedì alle 21.05. Questi corsi per dirigenti che diceva Vito potrebbero essere per te.